alta langa famosa subito viene in mente il vino poi subito viene in mente il tartufo ma non solo nell'alta langa si produce anche un prodotto d'eccellenza che rappresenta il piemonte in pieno e è una nocciola la nocciola dell'alta langa estremamente preziosa famosa tutti ne parlano in realtà è un prodotto veramente di nicchia perché ce n'è veramente molto poche un prodotto di eccellenza e chiaramente si riesce ad avere grazie a questo prodotto poi delle lavorazioni completamente aperte su questo che possiamo produrre dalla nocciola semplice semplice ricca da mangiare così dalla farina di nocciole per tutte le lavorazioni di pasticceria fino ad arrivare alla crema di nocciole semplicemente nocciole macinate e emulsionate quindi ho proprio un'essenza di nocciole per avere un prodotto unico e adesso andiamo ad assaggiare i prodotti dell'azienda terra delle nocciole alta langa un semplice prodotto di una qualità altissima rende tutte le sue preparazioni gastronomiche di un livello sopraffino la nocciola è un frutto semplicissimo ma se si prende un prodotto di qualità come quella dell'alta langa si può utilizzare in tantissime preparazioni ma partiamo da un semplice una semplice passeggiata voglio fare una passeggiata io mi tengo sempre le mie nocciole in tasca invece merendine stupide ecco una semplice nocciola altamente energetica croccante lunga e lasciano una bella sensazione gustativa in bocca tra l'altro la nocciola è ricca di acidi grassi buoni sani che combattono il colesterolo quindi è un prodotto sicuramente da prendere in considerazione per una dieta energetica piacevole leggera partiamo dagli antipasti dagli antipasti io utilizzerei la nocciola in granella quindi farei un semplice una gremolata di nocciole e la utilizzerei sia su un carpaccio ma anche su una tartare dovrete sentire come valorizza la carne se si può utilizzare una carne estremamente magra chiaramente si va a sentire questa parte amarognola della nocciola con la parte dolce della carne l'abbinamento è meraviglioso poi si può andare subito dopo un risotto il risotto io adoro è semplicemente un buon riso un bel carnaroli quindi un chicco grosso semplicemente partendo con una rosolatura del riso e valorizzare che cosa con una semplice pera adesso la stagione delle pere cosce si va con la pera si può utilizzare il formaggio tipico piemontese come il castelmagno ma possiamo utilizzare anche un taleggio bello avvolgente e per finire visto abbiamo messo preparazioni gastronomiche come la pera il taleggio dolce utilizzerei una gremolade subito sopra fine di mantecatura di nocciole insieme a un po di erbe aromatiche un po più amarognole come la salvia e il rosmarino ma veramente in minima parte questo abbinamento risulta particolarmente piacevole che dà un po di contrasto e divertimento gustativo come secondo i piatti la nocciola adora anche il maiale quindi si può utilizzare una farcitura di una carne di maiale di un arista insieme a delle prugne e con delle nocciole sentirete come esalta ancora di più la carne i dessert sono tantissimi semplicemente da poter utilizzare sul gelato oppure anche in molte preparazioni dove c'è qualsiasi preparazione di panna di creme quindi per valorizzare un pochino più la nocciola le aggiunge lo aggiungerei anche alla pasta frolla per avere qualche sfumatura che la nocciola riesce a dare con con grande eleganza quindi sicuramente non perderei l'occasione di assaggiare le nocciole dell'alta langa della terra dei nocciole perché questo è uno un prodotto d'eccellenza italiano e dobbiamo essere estremamente orgogliosi